ma è fortissimo una cosa che non ho lì ci perdiamo a metà sempre che provi, fai queste 40 let's go 5, 6, 7, 8, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 let's go easy, 1, 2, 3, easy, 1 4, 5, let's go easy, 1, let's go 1, 2, let's go 3, come on, confermati 1, 2, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 let's go come on l'ultima 4 chip è di un belta ragazzi però 40 questo è il tuo è bellissimo